Ben trovati da Giovanni Pimpinelli, siete sintonizzati su Atletico di Rena Progetto Fuzzal una sfida elettrica per la squadra di Olimpia Santoro che ha di fronte la capolista autoditaria di questo campionato di Serie C, siamo giunti alla sesta giornata di ritorno di questo campionato E valla in mezzo, poi Ombra! Bellucci! 35 secondi, si sblocca il risultato, freddo il Progetto Fuzzal Cal 9, c'è l'Atletico di Rena Muzzi, barriana nutrita praticamente, così ha nutrita la presenza di giocatrici tira Muzzi con la star da segna il gol del pareggio del Progetto Fuzzal con un bellissimo tiro 2 contro 1, Nainggolan, Nainggolan, il tiro Rihanna! Nainggolan! Mette l'appoggio, poi le tira il gol del pareggio con Vitale Esce il portiere Chimenti, la rosa ci prova! La rosa, Orlena! La rosa, con un grandissimo gol da centro al campo! Il tiro di Petrolini, veloci, Vitale gol! Pareggio! Il campo di Saliboli è finita, finisce 3 a 3 Forse è risultato più giusto, ma la data di Rena forse avrebbe anche meditato di vincere questa partita 3 a 3 3 a 3 I un Gelo! Benjamendina! 5 a 1 Pero 快i! Earahem il direito all'interno! Iscri Honey Oil complete! area, come prendendo la trucazione! Passi?